La città di Gela non si distingue certo per decoro urbano e verde pubblico. Innumerevoli volte abbiamo denunciato stati di degrado e trascuratezza. Angoli o interi quartieri che ripuliti e piantumati adeguatamente cambierebbero decisamente il volto della città. Perché il decoro, la pulizia e l'immagine di un luogo sono fondamentali per una serena e civile convivenza dei cittadini, ma soprattutto per accogliere visitatori. Ci chiediamo, dove finisce la responsabilità della pubblica amministrazione e comincia quella dei singoli cittadini? Siamo sicuri che Gela sia in grado di mantenere in ordine quello che è già stato ripulito e sistemato? Queste domande se le è poste un comune cittadino che va oltre. Dopo un'attenta osservazione del degrado in cui verse il verde pubblico, quasi una chimera, ha deciso di lanciare un appello ai concittadini e di chiedere di sposare il suo progetto semplice ma efficace e di mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze spontaneamente per ripulire e riqualificare le zone che necessitano interventi di verde pubblico più urgenti. Cominciare cioè un passo alla volta a cambiare le cose, non stando seduti a criticare ma collaborando fattivamente. Abbiamo incontrato questo cittadino di buona volontà perché riteniamo che la notizia sia anche questa, forse una goccia nell'oceano ma chissà se un movimento che nasce dal basso non possa avere sviluppi interessanti. Raffaele Di Gregorio, lei è un pensionato, un cittadino gelese per adozione perché è di origini ragusane ma si è innamorato di questa città perché ormai vive qui da tantissimi anni, ha lavorato qui, ha la famiglia qui e partendo dall'osservazione di questa città oggi vuole lanciare un appello ai nostri concittadini per realizzare qualcosa per il bene di questa città. Io voglio costituire un comitato di cittadini che la pensano come me, che sono disposti a svoltare pagina, a dare un'immagine di questa città degna di essere chiamata città e non l'etamaio perché è un l'etamaio sotto tutti gli aspetti. Quindi lei vorrebbe costituire un comitato di cittadini, un comitato spontaneo per volontariamente occupare le ore del vostro tempo libero per la pulizia e la ripiantumazione del verde pubblico. Sì, se osserviamo la città di Gela e vediamo dei balconi che sono costati migliaia di euro bellissimi ma che poi manca l'essenziale, cioè anche una pianta di geranio o di qualunque esso sia per dare intanto un'immagine diversa di questa città. Il verde, le piante sono benessere per il cittadino perché abbassano la produzione di anetride carbonica e producono ossigeno. Quello che respiriamo i cittadini, anche gli amministratori, dovranno attenzionarci. Se qualche cittadino di buona volontà volesse sposare la sua causa la può contattare e così magari creare questo comitato? Posso dare il mio numero di telefono 328 87 39 930 Ciò che mi auguro e credo che se lo debbano augurare tutti i gelesi e la città di Gela è che questo comitato si faccia perché ho avuto già tantissima adesione e questo è l'obiettivo, è questo che ci prefiggiamo e io dico ai gelesi, veglia, diamo un'immagine diversa entro quest'anno, prima che finisce la primavera di fare un concorso, il miglior balcone fiorito.